Per senso di responsabilità, le primarie si potevano evitare, ragionando e puntando su un candidato attorno al quale costruire il progetto democratico per la città. A parlare così è il Movimento Città delle Idee, il cui leader e candidato a sindaco Andrea Falvo è stato prima tirato in ballo per partecipare, in quanto tesserato, alle primarie del PD. Poi si è visto chiedere la restituzione della tessera per avere deciso di correre alle primarie del centro-sinistra e non a quelle dei Democrat, salvo poi vedere proprio cancellare queste ultime, viste la scelta dall'alto del candidato Rikiki. Per colpi di scena e strategie, le primarie del centro-sinistra Lametino rimangono fissate per il prossimo 12 aprile. Il ballottaggio si terrà invece il 19 aprile, mentre il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per fine mese. Tempi stretti, insomma, per una campagna elettorale piena di veleni. Rimane fuori dalle primarie Rosario Piccioni la mezza insieme, che si era ritirato dalle primarie non ritenendole pulite, per poi chiedere di rientrare ora che l'assetto è mutato. A nulla è servito l'intervento di Sell per rimetterlo in corsa. Piccioni dovrà correre da solo.